I militari del gruppo della Guardia di Finanza di Vibbo Valencia, coordinati dal Comando Provinciale, hanno eseguito a partire dalle prime ore di questa mattina un posto di controllo nei pressi del casello autostradale a due Salerno-Leggio Calabria, nel comune di Pizzo in provincia di Vibbo, al fine di procedere all'ispezione di mezzi in circolazione sospetti. Durante l'esecuzione del servizio, due autovetture provenienti da Sud, che procedevano a distanza ravvicinata subito dopo l'uscita dell'autostrada, alla vista di una pattuglia, hanno cercato di sottrarsi al controllo, dandosi alla fuga a velocità sostenuta, ma subito fermate dopo un breve e pericoloso inseguimento. Dunque, a seguito di un accurato controllo di entrambi i mezzi, all'interno della seconda vettura, che sembrava scortata dalla prima, ovvero faceva la staffetta, veniva accertata la presenza di circa 40 kg di marijuana, trasportata all'interno di quattro sacchi di colore nero, che, in seguito all'indagine immediatamente svolte, risultava essere stata acquistata poco prima, presso una nota azienda agricola napitina nella zona. Le successive operazioni di prequisizione eseguite presso l'impresa hanno consentito il rinvenimento di un ulteriore rilevante quantitativo di sostanza superfacente, già essiccata ed imbustata, dallo stesso tipo di quella trasportata abilmente occultata dietro i pallets di cartone, nonché di migliaia di piantine di canapa ancora coltivate in attesa di essiccazione. L'azienda agricola autorizzata alla coltivazione della canapa asiativa, mediante presumibilmente un incrocio di piantine, è riuscita a creare una varietà che, pur rappresentando un aspetto simile alla stessa, conteneva un THC, il principale composto psicoattivo della pianta, di gran lunga superiore al limite consentito, come confermato dai prelevamenti dei campioni eseguiti. Al termine dunque di questa attività, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro circa sei quintali di marijuana già essiccata e pronta all'uso e 5.200 piantine di canapa coltivate in assenza di essiccazione e confezionamento, sventando così un traffico di sostanze stupefacenti con probabili ramificazioni anche in altre province calabresi che avrebbe potuto fruttare sul mercato proventi illegiti per oltre 2 milioni di euro.